oggi torta al quark tutti lo vogliono ma pochi lo usano il quark semplicissima questa ricetta per fare una torta leggera al quark mezzo chilo di quark sale da 4 a 6 cucchiai di zucchero due uova ovviamente andiamo a mescolare tutto e dopo aggiungiamo l'elemento più asciutto cioè il lievito e la farina una bustina di lievito e da 4 a 5 cucchiai di farina bianca semplicissimo adesso setacciamo il tutto facciamo incorporare ovviamente la farina nostro composto e realizziamo questa base molto 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 interessante perché ha pochissima farina e soprattutto verrà anche soffice grazie al quark così la stendiamo in una teglia con la carta da forno e andiamo a accendere il forno a 180 gradi la cottura nel forno dovrà essere da 13 a massimo 15 minuti così andiamo a fornare forno ventilato ed ecco qui il risultato adesso andiamo a farcire con dell'ottima ricotta che abbiamo raffinata con un po di miele così non abbiamo esagerato usando troppo zucchero tagliamo la nostra torta così facciamo dei quadrettini perché dobbiamo fare questa mattonella di ricotta mettiamo la ricotta e poi andiamo a guarnire con della marmellata deliziosa i frutti di bosco e qualche mandorle eventualmente alla fine e anche un po di cannella e così ci siamo quasi e adesso l'abbiamo anche un po all'esterno farcito con la ricotta la facciamo riposare in frigo da quattro anche un'intera notte e dopo l'andiamo a gustare vi faccio vedere anche come venuta all'interno perfettamente stratificata e buonissima non molto pesante ovviamente questa mattonella è almeno per sei persone perché è piccolina ma bella sostanziosa ed ecco adesso la foto di come venuta all'interno che ne pensi scrivi nei commenti e mi raccomando prova la ricetta che delizia wow io la voglio rifare magari con altre creme alla fine forse era meglio fare un pancake voi che ne dite